Perché la trota salmonata si chiama così? Beh si chiama così perché ha carni rosa come quelle del salmone. Il termine ha una valenza puramente commerciale. Nelle trote di allevamento infatti la colorazione rosa si ottiene con mangimi arricchiti di carotenoidi, ovvero dei pigmenti vegetali naturalmente presenti in natura. Tali carotenoidi sono presenti nella dieta del salmone che infatti ha carni rosate, mentre non sono presenti nella dieta delle trote che infatti normalmente hanno carni bianche. Da un punto di vista commerciale però le carni rosate sono più appetibili e si possono vendere a un prezzo più alto. Alla fine quindi il termine trota salmonata identifica solamente il mangime che ha alimentato la trota. Il termine non ha alcuna valenza scientifica e soprattutto non identifica alcuna specie di trota.